Allora papà, oggi è Pasqua, tanti auguri! Pasqua è una ricorrenza importantissima, perché ogni anno a Pasqua ricorre il giorno in cui la mamma butta la cioccolata vecchia di un anno e mette quella nuova di quest'anno, che dice che vuole fare tante torte. Vuole fare tante torte, ma non le fa. Eh, lo so. E io me la tengo. Un giorno capirai.